ehi madre so canale piente zaga le piore piore gene a parole su rotu mi ha managenda da di me so piente rutz di shire piente rutz no so piente rutzire so tu teke so piente zaga le piore gene guaga tua pechama benicene pechama nicene pechama nicene pechama siwa ilo kule pechama shi ye shi ye sule kajaw pechama kajang mu shi tila a suya jangmui shi ye a yito jangmukuri akku nene let lo senara raro kali jangtate ewe yao ino yang gomala niya mela po no tu api aro tu pakamani chini tapi me kuri ta amia kali jangtabu dwa pula niya mela Mida la naru tari kilang maanaleaka maanale ma pan na имо n Kobayori ma stai a casa la casa la casa non è che non ha mai non è cosa non 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 è che non è che ma non è che non è che non è che però prima non è che D'accordo, mi saigo, io mi chiamo qui. About... How you feel... About... About your daughter. So... When you get... When you know baby... Baby, ah, ah. So,omi... How I feel. So, I am... Proud, Pieter. No? Proud... Proud about genomei ma. Non è stato un po' di energia. Si, no. Ok. Ok. Quindi, non è stato un po' di vita. Come si diceva il vita? Bua. Bua. Ok. Quindi il mondo non è così. Quindi la stessa situazione è una persona che conosco. No? No, no, no. In quel mondo si conosci, del mondo, in quel mondo deve assicurare? In quel mondo si è una persona che usava la mia 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 mia, poi con il mondo apprende, Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info